Hanno messo questa transenna qui, non riesco a capire perché, già ci sono pietroni, credo che sia per via dei motorini, non lo so, però l'hanno lasciato un passaggio solo, ora con assembramenti che tutta la gente che passa si scontra. Poi mi ritrovo comunque, come lei può ben vedere, a rifare un giro per 50 metri neanche, un giro che mi riporta a girare tutto intorno, durante l'ora di scuola è un problema. Sono i disagi di alcuni dei residenti della zona di via Deledda a Pistoia, strada che congiunge il tratto cittadino di via Bonellina, non lontano dalla Vergine, con via Roccon Rosso, un quartiere molto popoloso alle spalle del nuovo supermercato S. Lunga e che ospita anche una scuola. Una chiusura frutto di un esproprio durato anni di un tratto della strada, nato privato ed oggi divenuto pubblico, che è stata rafforzata con la posa, alcuni giorni fa, di una serie di panettoni in cemento e di transenne da parte degli operai del comune. Prima c'era una transenna in meno, quindi potevi passare magari, non so, con una bicicletta, con un motorino, ora è chiuso del tutto, vedo l'ho lasciato solo un passaggio da una parte lì, non riesco a capire come mai è chiusa. Io abito a quella casa lì e quindi con la macchina esco qui soltanto, ci vengo soltanto a piedi a passare, non è nessun problema. Anzi forse, è chiusa e più tranquilla. Meno casino. Ma se fosse aperto magari sarebbe più traffico, più sonello da questa parte qui. Nel tempo, ci hanno raccontato i residenti, nei pochi metri della strada in corrispondenza con l'incrocio di via Barbie, si sono verificati incidenti, in particolare con motorini, con le transenne che venivano sistematicamente spostate. A questo si aggiungerebbe poi il fatto che lo stesso tratto di strada non sarebbe a norma, di qui la chiusura. Se alcuni degli abitanti hanno aumentato disagi, ma anche una situazione più tranquilla per il traffico notevolmente ridotto, c'è chi chiede di sbloccarla. A meno di dare la possibilità a chi abita a 10 metri di poter tranquillamente passare anche in bici come lei vede. E invece no, a me non è che dispiaggia il fatto che sia chiusa, ma che dia la possibilità senza evitare di stare uno dietro l'altro durante anche l'ora di scuola.